Ciao a tutti e bentrovati o bentrovate all'interno di questo canale e in questo nuovo video. Oggi voglio andare a parlare di un argomento estremamente interessante e che so per certo andrà ad interessare a moltissimi e moltissime di voi. Sto parlando della nitidezza e infatti all'interno di questo nuovo video vi voglio mostrare come in tre semplici ma estremamente efficaci passaggi vado ad applicare la nitidezza alle mie fotografie per avere un ottimo risultato finale. Prima di procedere però con il tutorial all'interno di Lightroom e di Photoshop che sono i due software che andremo a vedere all'interno di questo video vi voglio fare una importante premessa. C'è una bella distinzione tra dettagli e nitidezza. I dettagli di una fotografia sono diciamo una caratteristica intrinseca delle fotografie che escono fuori dalla nostra macchina fotografica e dalle nostre lenti e sono strettamente correlati da un lato all'attrezzatura che stiamo andando ad utilizzare sul campo e dall'altro a come la stiamo andando a sfruttare quindi avremo ottimi dettagli con un buon corpo macchina con delle ottime ottiche e chiaramente andando a utilizzare le tecniche i parametri di scatto necessari per tirare fuori questi risultati fantastici. Dall'altro lato invece abbiamo la nitidezza che non è un qualcosa che ci deriva direttamente dalla nostra macchina fotografica e dalle nostre ottiche bensì è un parametro che noi andiamo a lavorare in post produzione e che solitamente comunque si va ad aumentare all'interno delle nostre fotografie per aumentare allo stesso tempo anche il micro contrasto tra i vari bordi dei soggetti o comunque degli elementi nelle nostre immagini per farli risaltare di più nella fotografia stessa finale. Quindi ripeto da un lato abbiamo i dettagli proprietà intrinseca della foto che esce dalla macchina fotografica dall'altro la nitidezza quindi un parametro che si va a modificare in post produzione. Ci sono tantissimi software che vanno a lavorare e che ci consentono di andare ad aumentare la nitidezza ci sono tantissimi metodi oggi vi faccio vedere i miei tre semplici passaggi però per ottenere una nitidezza da professionista. Ci troviamo ora all'interno di Lightroom e andiamo subito a vedere insieme come iniziare con il primo passaggio di applicazione della nitidezza e normalmente io questa la chiamo nitidezza di base. Come vado a procedere quindi? Mi reco all'interno del modulo di sviluppo come vedete qui in alto mi trovo appunto all'interno di questo modulo dopodiché una volta che ho finito di sviluppare la mia fotografia mi sposto all'interno del pannello dettagli all'interno di questo pannello abbiamo questi quattro slider fattore raggio dettagli e mascheratura che sono i quattro slider principali che ci consentono di andare a aumentare la nitidezza della nostra immagine. Il fattore può essere considerato un po come un acceleratore della nitidezza quindi maggiore sarà il suo valore e maggiore sarà effettivamente la nitidezza che andremo ad apportare nella nostra fotografia. Il raggio invece è la dimensione del bordo che verrà contrastato e vi farò vedere a breve che cosa vuol dire. I dettagli invece vanno a lavorare sui singoli piccoli dettagli che ci escono fuori dalla macchina fotografica quindi andremo a dire mediante questo slider quanti dettagli effettivamente della foto verranno colpiti verranno resi più nitidi dal fattore ed infine abbiamo lo slider mascheratura ovvero quello strumento che ci consente di andare all'aumentare del suo valore a rimuovere parzialmente la nitidezza da tutte quelle porzioni di foto dove non serve come ad esempio zone come il cielo che vedete è molto sfumato è privo di dettagli e quindi vogliamo evitare artefatti in quelle zone. Quindi fatta questa breve premessa molto importante sul funzionamento di questi quattro slider andiamo adesso a vedere come lavoro personalmente per andare applicare la nitidezza di base ovvero quella nitidezza che serve ad andare a sgrossare quindi serve andare a intanto porre le basi per una bella foto ben definita ben nitida molto croccante come sono solito dire però ovviamente sempre entro certi limiti quindi siamo sempre nel range di una nitidezza delicata. Normalmente io vado a zoomare al 100% all'interno della mia immagine lo potete fare anche andando a cliccare direttamente all'interno del riquadro oppure attraverso questo pulsante poi potremo andarci a spostare vedete col cursore e dunque spostandoci col mouse all'interno della foto cambierà anche l'anteprima all'interno del pannello dettagli. Cliccando potremo andare a tornare nella modalità precedente quindi andremo a bloccare in questa posizione il dettaglio. Solitamente io vado a lasciare 40 al fattore non vado mai a dare un valore oltre il 50 solitamente ho fatto vari tentativi ed è il valore che funziona meglio sulla mia Nikon Z62 da 24 megapixel. Voi sentitevi pure liberi di sperimentare però sicuramente stando sotto il 50 vi eviterete problemi di artefatti. Come raggio invece direi che 2 è molto molto grande. Vado a zoomare leggermente di più nella fotografia per farvi vedere cosa succede andando ad aumentare troppo il raggio quindi lo porto al massimo che Lightroom mi consente e poi vado ad aumentare anche la nitidezza. Come vedete se accendo e spengo vedete questo è il tipico effetto che viene generato da un raggio troppo grande e in sostanza va a trasformare la fotografia in una specie di fumetto. Andando ad abbassare il raggio potete vedere come cambi chiaramente il modo in cui la nitidezza viene applicata. Io solitamente non vado mai oltre l'1.2 chiaramente dipende anche dalla dimensione dei dettagli nella fotografia. Questa roccia comunque ha tanti ma tanti dettagli anche molto molto sottili quindi mi mantengo intorno a uno 0.8 e poi ovviamente riporto il mio fattore a 40. Ecco fatto. A questo punto poi vado invece a portare i dettagli al massimo quindi dettagli a 100. E per concludere con la nitidezza di base quindi il primo passaggio vado ad applicare la mascheratura. Andiamo quindi a zoomare in una porzione ecco di cielo e di nuvole vuote per farvi capire bene come funziona lo slider mascheratura e mi riservo nuovamente della nitidezza al 150. Come vedete infatti si sono venuti a creare questi artefatti. Proprio si chiamano così artefatti. La mascheratura altro non fa che man mano che io vado ad aumentare il suo valore va a rimuovere l'applicazione di nitidezza da tutte quante quelle zone che di per sé non hanno texture non hanno dettagli da essere enfatizzati quindi che non necessitano di un aumento di contrasto sui bordi. Come vedete sono al valore 77 e ho sempre il valore 150 ma in questo caso andando a accendere e spegnere la regolazione vedete che non cambia assolutamente nulla nella parte di cielo. Ora chiaramente 150 è troppo riportiamolo al valore 40 e zoomando indietro vediamo di scegliere un valore consono di mascheratura che mi vada a rimuovere sì la nitidezza da quelle zone che non mi servono però invece che mi mantenga anche la nitidezza nelle zone che voglio andare a rendere più nitide. Come faccio? Premo il tasto alt oppure option su mac e trascino man mano lo slider verso destra finché non vedo che le zone nere che mi interessano come ad esempio il cielo sono appunto effettivamente nere. In questo caso vuol dire che non sono afflitte dalla nitidezza che ho appena applicato. Quindi questo è il primo passaggio di applicazione della nitidezza la nitidezza di base. Passiamo invece ora al secondo step ovvero l'aumento di nitidezza tramite delle regolazioni locali. Questo passaggio può essere fatto sia all'interno di lightroom che all'interno di photoshop. Per completezza vi faccio vedere entrambe le cose nel caso in cui qualcuno di voi magari non avesse photoshop oppure non avesse dimestichezza con questo programma. Per andare ad applicare nitidezza locale dovremo andare a abbandonare il pannello dettagli e recarci sulle mascherature. Quindi andiamoci a cliccare sopra e adesso quello che dobbiamo fare è andare a scegliere la mascheratura migliore tra quelle che Lightroom ci mette a disposizione per andare a selezionare i nostri soggetti in questo caso il mio scoglio. Questa è una foto molto molto semplice e perfetta per questo tipo di video e quindi andare ad aumentare la nitidezza e i dettagli solo ed unicamente dello scoglio centrale lasciando stare tutto il resto. Lightroom qui ci viene incontro in tantissimi modi e se vado a cliccare su questo più vedete che mi vengono fuori tutte le tipologie di mascheratura messeci a disposizione. In questo caso credo che oggetti possa fare al caso nostro e selezionando quindi la selezione rettangolare vado a disegnare questa forma attorno allo scoglio. automaticamente Lightroom mi va a selezionare come vedete lo scoglio e lo fa anche molto molto bene. A questo punto quindi vado a zoomare sullo scoglio in questo modo. Perfetto. E dopodiché mi abbasso quindi scendo 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 e vado all'interno di nuovo della sezione dettagli. Vado ad aumentare la nitidezza in questo modo. Come vedete io vado a aumentare quindi il fattore, ok? La nitidezza solo ed udicamente nello scoglio. Ed ecco fatto. Quindi vediamo il prima e il dopo. Zoom ulteriormente per farvi vedere anche da vicino cosa sta succedendo. Quindi vediamo nuovamente il prima e il dopo. Nel caso in cui fosse stato introdotto un leggero rumore possiamo andare a abbassarlo tramite lo slider rumore in questo modo e quindi andare ad apportare ulteriore nitidezza solo ed unicamente sul nostro scoglio ma evitando rumore digitale e eventuali artefatti. Riclicchiamo quindi sull'icona delle mascherature qui in alto a destra. Riclicchiamo sulla foto e quindi ecco che ho eseguito il secondo passaggio. Ora cancello questa seconda mascheratura e vi faccio vedere un procedimento analogo che io personalmente prediligo all'interno di photoshop. Quindi faccio tasto destro modifica in e poi modifica in photoshop. Molto bene all'interno di photoshop andiamo subito immediatamente a sfruttare la nuovissima funzionalità introdotta da poco in adobe photoshop 2023 ovvero attraverso la barra qua sotto andiamo a applicare la selezione del soggetto. Come vedete mi ha selezionato perfettamente lo scoglio. Nel caso in cui volessi andare a vedere la qualità di questa selezione posso sempre andare a cliccare qui in basso a sinistra sulla bandierina che sembra la bandiera dell'europa. Ci clicco sopra e come vedete la selezione è veramente veramente ottima per quel che riguarda lo scoglio. In questo caso chiaramente non ci serve andare a scontornare esattamente lo scoglio però come vedete è l'unico soggetto rilevato e tutto quanto il resto tra cielo schiuma mare e nuvole niente di questo viene selezionato. Quindi questa è la cosa più importante. Riclicco dunque su questa icona vado un pochino indietro con lo zoom e a questo punto cosa faccio? Molto semplicemente vado a duplicare il livello di sfondo e vado una volta selezionato sfondo coppia a cliccare con la selezione attiva sull'icona di maschera. Semplicemente clicco sull'icona del livello sfondo coppia mi sposto poi su filtro nitidezza e vado poi su nitidezza avanzata. Possiamo muoverci col mouse e cliccare in questo modo sui vari dettagli dello scoglio quindi possiamo vedere già l'anteprima finita del lavoro e come vedete qui io ho già applicati i valori che normalmente vado a utilizzare sulle mie fotografie da 24 megapixel e la resa trovo che sia decisamente decisamente superiore rispetto a quella che ci offre Lightroom. Infatti questi dettagli mi piacciono nettamente di più mi sembrano ancora più incisi ma molto molto realistici e trovo che oltretutto vadano a preservare molto meglio la qualità senza introdurre alcun tipo di rumore. Il vantaggio poi di aver applicato una maschera al livello è che nuovamente questa nitidezza verrà circoscritta alla sola selezione dello scoglio senza andare a intaccare tutto quanto quello che invece nella maschera è nero. Quindi io vi consiglio di segnarvi i valori quindi fattore 113 da 100 a 120 diciamo che sono valori ottimali raggio tra 09 e 1.2 e riduci disturbo 5%. Premiamo su ok e il gioco quindi è fatto. Ecco che abbiamo concluso anche il secondo passaggio. Ultima cosa che possiamo fare per essere veramente precisi è andare a fare un controllo quindi zoomiamo al 100% andiamo a accendere e spegnere il nostro livello. Posso avvicinarmi ancora di più così che anche voi possiate apprezzare meglio il lavoro eseguito quindi vedete il prima e il dopo c'è davvero una grande grande differenza e nel caso in cui aveste esagerato oppure vi sembri troppa la nitidezza che avete applicato potete sempre andare a ridurre l'opacità di quanto ritenete necessario per avere il risultato sperato. Perfetto dunque useremo questa fotografia per il terzo e ultimo passaggio ovvero la nitidezza in output per stampa o comunque salvataggio in altissima risoluzione alla massima qualità e poi salvataggio per l'esportazione verso il web che sia un sito internet piuttosto che un social network dunque vado a chiudere dico salva in modo da ritrovarmi questa fotografia in lightroom e ritorno in lightroom eccoci con la nostra fotografia uscita dal secondo passaggio vediamo insieme come applicare la nitidezza in fase di esportazione cominciamo dunque dalla massima risoluzione possibile quindi tasto destro e poi andiamo su esporta esporta io mi sono già fatto vari preset per risparmiare un sacco di tempo ma in questo caso andremo a vedere punto per punto tutto quanto quello che dovete sapere quindi all'interno del percorso di esportazione diciamo che poco importa dove volete andare a salvare la vostra fotografia lo stesso dicasi per denominazione file in questo caso poco importa quale andate ad utilizzare purché vi sia congeniale per andare a esportare correttamente le fotografie e catalogarle nel migliore dei modi la cosa importante invece è all'interno di impostazioni file in questo caso per avere la massima qualità io vi consiglio di utilizzare il formato tiff con nessuna compressione spazio colore adobe rgb 1998 e infine profondità 16 bit evitiamo assolutamente di andare a ridimensionare la foto noi la vogliamo con le sue dimensioni originali più grandi possibili non applichiamo nessuna filigrana e infine andiamo ad applicare la famosa nitidezza di output in questo caso dal momento che noi vogliamo andare a salvare la fotografia e magari anche salvarla per una stampa andiamo a scegliere il tipo di carta quindi vogliamo stamparla per una carta opaca possiamo scegliere questa vogliamo stampare invece su una carta lucida potremmo invece scegliere quest'altro il mio consiglio è quello di salvarvi una duplice copia del file finale uno per carta opaca ed uno per carta lucida in questo caso scegliamo carta opaca e come fattore mai usare alto è veramente troppo e dal momento che la nitidezza è un parametro che non è reversibile quindi non possiamo andarla a rimuovere una volta applicata vi consiglio di stare tra basso e standard potete fare anche in questo caso voi delle prove in base magari alla fotografia prima di salvarla definitivamente quindi magari vi fate tre o quattro provini e vedete qual è quella che è il migliore risultato dopodiché ve la potete archiviare quindi mai usare alto in questo caso lascio standard e quindi posso cliccare su esporta e salvare la mia fotografia alla massima risoluzione con la massima qualità e per la stampa e per invece l'archiviazione vediamo invece adesso come esportare la fotografia e quindi comandare applicare la nitidezza in output per una fotografia per il web quindi stesso discorso percorso di esportazione denominazione file non sono rilevanti quindi li andiamo a chiudere mentre invece è importante tornare in impostazioni file e andare a scegliere in questo caso jpeg come qualità potete usare chiaramente il 100 per cento a meno che magari non abbiate delle dimensioni particolari da dover rispettare del file e quindi potrete andare a limitare le dimensioni a tot kilobyte in funzione del sito che magari vi impone dei limiti e cosa molto importante è salvare la fotografia esportandolo in profilo srgb che è il profilo colore che viene supportato da internet in generale quindi da tutti quanti browser e da tutti quanti i social network altra cosa importante è andare a ridimensionare la fotografia in quanto comunque non serve a nulla avere una fotografia da 48 megapixel pubblicata su un sito internet vorremmo avere invece una foto sì bella ma che carica anche molto in fretta e che sia facilmente visibile sia sui social network che comunque vengono automaticamente compresse quindi in questo caso non è appunto quello il caso piuttosto che invece sul vostro sito internet dove vorrete che la gente che viene a visitarlo possa godere della massima esperienza vedendo le vostre foto belle grandi risolute ma non troppo pesanti in questo caso io uso sempre bordo lungo 1920 pixel sul lato lungo ed infine risoluzione 300 pixel per pollice penultima cosa vado a dare sì nitidezza ma questa volta per schermo e allo stesso modo non vado mai a usare alto lascio sempre standard solitamente mi piacciono le foto un pochino più croccanti per il web specialmente sul mio telefono specialmente sui miei social network infine se voglio se ho una filigrana quindi se ho una firma posso andarla a inserire quindi posso cliccare qui andare sulla spunta andare a cliccare qui e poi ad esempio inserire il logo luca ovvero il mio logo quello che avete visto anche sulla mia maglia o che vedete in basso al video piuttosto che invece andare a cliccare su modifica filigrane e dunque andare a inserire una qualsiasi tipo di filigrana anche banalmente un testo io come vedete qui in fondo alla mia foto ho già il logo che solitamente vado a utilizzare sul mio sito internet e quindi automaticamente posso esportare 20 30 40 100 fotografie tutte a 1920 pixel sul lato lungo applicando a tutte la stessa nitidezza e andando applicare tutte nel bordo in basso in angolo a sinistra il mio logo quindi ecco i miei tre step efficaci per applicare nitidezza alle fotografie spero tanto che questo video vi sia piaciuto se avete dubbi domande o proposte per nuovi video fatemelo pure sapere qui sotto in un bel commento e ovviamente se avete apprezzato questo video e non siete ancora iscritti o iscritte mi raccomando cliccate sul bottone per non perdervi tutti quanti i prossimi video che usciranno qui sul canale alla prossima